Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10, l'apertura del notiziario oggi è dedicata al dibattito sulle trivellazioni nell'isola che sta infiammando nelle ultime ore la politica regionale. Il presidente Rosario Crocetta sostiene che chi è contro vuole soltanto il male della Sicilia. Vediamo. C'è il no degli ambientalisti, un no allo sfruttamento del sottosuolo, parallelamente c'è un decreto, lo sblocca Italia, che invece aumenta i premessi alle perforazioni nel nostro paese. Il dibattito proprio sulle trivellazioni in Sicilia sta infiammando nelle ultime ore la politica regionale. Il governatore, il gelese Rosario Crocetta, non riesce a digerire l'ordine del giorno approvato dall'Arse che lo impegna a revocare le concessioni sulle ricerche di petrolio e gas sul territorio siciliano e lungo le coste isolare che si affacciano sul mar Mediterraneo. L'ordine del giorno è stato approvato mentre Crocetta era in missione in Qatar per promuovere le imprese della Sicilia. Quanto accaduto negli ultimi giorni avviene nello stesso periodo in cui è stato siglato l'accordo sulla raffineria Eni di Gela. Rosario Crocetta ha detto a più riprese che il tema centrale è lo sviluppo della Sicilia, un accordo, quello siglato il 6 novembre scorso al Ministero dello Sviluppo Economico, che non mette solo un punto fermo sul destino dello stabilimento di Gela, ma che risolve in parte anche la crisi della fincantieri che potrà costruire le trivelle e di Milazzo che non ha commesse di lavoro. Sulle trivellazioni il governatore è stato molto chiaro, il petrolio che sarà estratto grazie alle nuove trivellazioni dovrà essere raffinato in Sicilia. E proprio l'Eni stabilirà nell'isola la sede della società che opera nel campo dell'estrazione degli idrocarburi. A conti fatti, dice il governatore, nelle casse della regione entreranno da 300 a 500 milioni l'anno di euro, producendo 6.500 posti di lavoro. A chi dice no alle trivellazioni, Crocietta risponde in maniera assai decisa, sostenendo che chi pone un diniego vuole solo il male della Sicilia. Gela, riferito ancora il presidente della regione, sarà un modello che verrà adottato in altre aree inquinate dai petrolchimici. In merito alle preoccupazioni manifestate dalle opposizioni che ribadiscono come le trivellazioni possano provocare ulteriore inquinamento, l'ex sindaco di Gela sostiene che non sono le trivellazioni che inquinano, ma le raffinazioni. Proprio a Gela la raffineria è attaccata alla città. Negli anni sono stati adottati i provvedimenti, ma adesso è il momento di cambiare. E l'energia verde è il futuro. Dobbiamo essere in grado di confrontarci con i grandi gruppi multinazionali, dei quali non siamo schiavi. A Gela, ha detto ancora Crocietta, abbiamo impedito all'Eni di andare via. È imposto di avere una sede legale in Sicilia per le trivellazioni, altrimenti revochiamo le concessioni. L'industria non è un demonio se si riesce a negoziare le entrate. In questo momento il nostro compito è quello di tirare fuori la Sicilia dalla crisi economica. Chi non lo comprende, dice ancora Crocetta, non ama la nostra terra. Il nostro oro nero va sfruttato, così come avviene ovunque vi sono giacimenti petroliferi. Domani intanto l'accordo siglato a Roma sulla raffineria Eni di Gela sarà al centro dell'audizione della sessione regionale all'industria Linda Vancheri presso la terza commissione attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana. Intanto la parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, la Nissena Azzurra Cancelleri, ha presentato un'interrogazione alla Camera sul progetto dell'Eni da 2,2 miliardi di euro che prevede una riconversione verde degli impianti della raffineria di Gela. Il Ministero detiene il 30% dell'Eni, quindi trovi soluzioni alternative all'ennesimo scempio ambientale, accusa Cancelleri. Lo stabilimento di Gela diventerà la green raffinerie con la trasformazione dell'olio di palma in biodiesel. Occorre dire che le coltivazioni della palma da olio sono la prima causa di disboscamento delle foreste dell'Indonesia. Adesso parliamo del nuovo progetto avviato alla Scuola Ettore Romagnoli di Gela sul delicato fenomeno del bullismo. Insegnanti, informazione, vediamo. Alla Scuola Ettore Romagnoli c'è sempre grande fermento, soprattutto per quanto riguarda la formazione e la preparazione dei docenti. In questo periodo è proprio partito un corso di formazione per gli insegnanti che riguarda il bullismo, quindi una materia molto delicata. La Scuola diventa primo presidio anche per questo fenomeno. Sì, sicuramente. La Scuola Ettore Romagnoli è sempre attenta a tutte le varie problematiche e fenomeni della nostra società, ma anche all'interno della scuola. è aderito a questa iniziativa che è arrivata dal MIUR. La nostra dirigente ha permesso la formazione di alcuni docenti, di tutto un consiglio di classe, ma in particolare due docenti si sono andati a Caltanissetta a formarsi, per poi avere questo progetto, avere una ricaduta positiva sulla nostra scuola. Si tratta di un progetto che è in prosecuzione di un discorso educativo iniziato già durante lo scorso anno scolastico e che vede la Romagnoli a fianco di tante scuole della provincia di Caltanissetta affiancate a loro volta dall'Università di Firenze. E quindi significa che si tratta di un progetto che ha una copertura e rilevanza scientifiche di un certo tipo. non è un progetto, come dire, poggiato su piedi fragili, ma c'è proprio il supporto dell'Università di Firenze. Sì, la scuola Romagnoli in questo momento è in fibrillazione. Noi siamo stati destinatari del progetto Erasmus K1 per la mobilità dei docenti e di fatto oltre il 50% del personale è in mobilità in Europa. Molto gratificante e anche decisamente interessante sotto vari profili. Quindi direi che è anche proprio un completamento di tutto quello che è il nostro lavoro, sicuramente. Vi è mai capitato dover affrontare un problema di bullismo all'interno di questa scuola? E come si è proposta come agenzia educativa? Sì, è capitato, diciamo che eravamo già in attivo anche l'anno scorso perché avevamo già contattato diverse agenzie educative esterne sia pubbliche che private e quindi questo sicuramente ci ha aiutato tanto. Oggi, devo dire, con questa adesione da parte della nostra scuola al progetto Kiva, che è un progetto veramente molto ambizioso dal punto di vista proprio sia nazionale che internazionale perché ha le sue origini in Finlandia quindi comunque diciamo che viene poi cooperato con l'Università di Firenze quindi comunque è abbastanza ampio e complesso questo sicuramente è già un buon punto di partenza. È possibile presentare istanza per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo adottati dalle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2014-2015 lo ha annunciato il settore istruzione del Comune di Gela la domanda di partecipazione assieme ai suoi allegati dovrà essere presentata appena di esclusione entro il 12 dicembre prossimo ed esclusivamente presso l'istituzione scolastica frequentata dallo studente al beneficio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 10.632.94 euro i modelli di domanda vanno ritirati presso l'istituzione scolastica frequentata dallo studente oppure scaricati sul sito del Comune di Gela all'indirizzo web www.comune.gela.cl.it giornata di attività per il sociale per l'associazione Diabetici Eschilo ieri avete effettuato uno screening alla cittadinanza a tutti gli utenti che hanno voluto così farsi un controllo e in effetti avete rilevato alcuni soggetti con qualche problema abbiamo fatto una giornata del diabete perché è finalizzata andare a scoprire delle persone che hanno il diabete ma non sanno di averlo ecco è destinata ma solo al tipo 2 non al tipo 1 distinguiamo tipo 1 e tipo 2 che cosa vuol dire? sì ecco il tipo 1 praticamente è un la tipologia che una volta viene chiamata il diabete giovanile ma diciamo che oggi non è solo il giovane può cominciare dall'età di pochi mesi addirittura quest'anno abbiamo avuto l'esordio di un bambino di 22 mesi qual è la forma più grave? tipo 1 o 2? ecco la forma più grave è il tipo 1 perché effettivamente il pancreasio non funziona per niente quindi per poter sopravvivere bisogna fare l'insulina in realtà quando poi si impara a gestire la patologia si può condurre uno stile di vita assolutamente normale ma lo scopo della giornata di ieri era sicuramente uno scopo dedicato alla prevenzione infatti questi soggetti che si sono avvicinati al vostro presidio da oggi in poi dovranno assumere delle nuove regole di vita che però gli consentiranno di vivere serenamente sì già che appunto diciamo prima che la giornata mondiale del diabete è finalizzata il tipo 2 c'è le persone che possono avere la familiarità quindi qualcuno dei genitori, dei fratelli, sorelle che hanno il diabete e anche chi non può presentarsi una volta viene chiamata il diabete alimentare stiamo partendo con un progetto sull'alimentazione alle scuole alimentari, scuole medie e anche all'alberghiero per poter dare dei suggerimenti a chi si presenta presso la ristorazione di come essere alimentato non è solo l'alimentazione che bisogna fare ma il movimento perché oggi come oggi muoversi ci muoviamo pochissimo tutti quanti cioè questo è generale questo con la Ginestica Club facciamo un'attività motoria il lunedì e il venerdì tutti gli over 50-60 attività motoria per poter conturre uno stile di vita migliore D'amore ed intorni è lo spettacolo portato in scena dagli studenti del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela che andrà in onda sulla nostra emittente mercoledì 19 novembre prossimo dopo il Tg10 delle 17 e in replica intorno alla mezzanotte tra vizi e virtù la vita non è un gioco forse invece è lo spettacolo portato in scena dagli studenti dell'istituto di istruzione superiore Luigi Sturzo di Gela che andrà in onda giovedì 20 novembre prossimo dopo l'edizione delle 17 del Tg10 intorno alla mezzanotte della stessa giornata 130 in issegni e non che hanno risposto all'invito delle sentinelle in piedi a scendere sabato sera in piazza Falcone e Borsellino per la libertà d'espressione per la famiglia naturale una veglia in silenzio con lo sguardo diretto verso il Palazzo di Giustizia dove ognuno dei partecipanti tra questi avvocati, insegnanti, impiegati politici, cattolici, musulmani e anche un gruppo di scout con il proprio credo e i propri ideali ha letto un libro come simbolo di formazione continua per ribadire che non è possibile zittire chi ha gli occhi aperti e la coscienza vigile un'ondata di protesta silenziosa svoltasi in città la presenza di numerose forze dell'ordine che hanno vigilato sull'incolumità dei partecipanti e che lo scorso 5 ottobre ha visto scendere in piazza 10.000 persone in 70 città italiane si tratta di uomini e donne che si riuniscono davanti i cattedrali municipi e tribunali per difendere, così come si legge in un documento diffuso durante la veglia il diritto dei bambini di avere un papà e una mamma e soprattutto di nascere da un atto d'amore gratuito senza essere fabbricati come oggetti pronti al consumo e per protestare in silenzio contro il disegno di legge Scalfarotto sull'omofobia che con il pretesto affermano le sentinelle in piedi di impedire atti di aggressione e violenza nei confronti di persone con tendenze omosessuali in realtà limita la libertà di espressione non specificando neppure cosa si intenta per omofobia un carattere vago della norma che sporrebbe tutti al rischio che si creino delitti di opinione si riprima la libertà di espressione e anche la libertà religiosa il popolo delle sentinelle in piedi inoltre non condivide il disegno di legge sulle unioni civili che il governo sta preparando e che ricalca il modello tedesco equiparando le unioni al matrimonio in tutto e per tutto e contestano la magistratura che a colpi di sentenze ha dato il via alla fecondazione eterologa e ha introdotto le adozioni per le coppie omosessuali eppure le sentinelle non si definiscono contrarie al riconoscimento a chi è impegnato in una convivenza omosessuale dei diritti individuali di carattere amministrativo e patrimoniale la loro posizione coincide con quella espressa dal sinodo dei vescovi nel paragrafo 55 della relazione che afferma che non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie neppure remote tra le unioni omosessuali e il disegno di dio sul matrimonio e la famiglia non di meno gli uomini e le donne con tendenze omosessuali devono essere accolti con rispetto e delicatezza una battaglia che non tutti condividono così come si evince dai commenti alle foto della veglia nissena sulla pagina facebook delle sentinelle in piedi una battaglia spesso definita da ortodossi cattolici eppure le sentinelle si definiscono a confessionali e nelle loro veglie così come è accaduto a Caltanissetta sono spesso presenti musulmani in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10 ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento questa sera alle ore 21 con 10 domande 10 ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlando di sport cominciando con il calcio e con il poker di reti rifilato ieri dall'Atletico Gela allo Sporting battiato adesso per la formazione di Simone Pardo la vetta è distante un solo punto nel gironedì di promozione domenica prossima sfida alla capolista Leonzio vediamo poker di reti dall'Atletico Gela al malcapitato Sporting battiati nel torneo di promozione i gelorossi che firmano il terzo successo di seguito e si preparano all'attacco dalla capolista Leonzio ieri a riposo adesso distante solo un punto una gara senza storia quella vista ieri pomeriggio al Presti un mezzo dominato dalla squadra di mister Simone Pardo che grazie alla doppietta di Leone e alle reti di Pira e Deoma porta a casa la settima vittoria della stagione nel torneo regionale un'Atletico Gela molto cinico un'Atletico Gela che diciamo le palle che costruisce li finalizza ma questo è un lavoro che portiamo avanti dal 28 luglio a oggi è un lavoro importante noi crediamo nelle nostre forze nelle nostre potenzialità e questo diciamo ora sta venendo fuori la squadra dove magari all'inizio c'era qualche dubbio anche fino a poco tempo fa si parlava un po' di Atletico Gela invece questa è la risposta che dà la squadra una squadra compatta una squadra che ogni domenica cerca di raggiungere l'obiettivo ricordiamo che l'Atletico Gela ancora non ha perso una partita viene da 12 vittorie e 3 pareggi un ruolino molto importante un ruolino da penso che il posto che meritiamo oggi è meritato qualche che si dice in giro o si ci trova o ci troviamo là quindi andiamo avanti per la nostra strada ci prepariamo per la battaglia di Lentini il risultato di 4-0 ci sta tutto facile facile voglio dire perché anche la squadra si è espressa abbastanza bene era importante chiudere il primo tempo la partita perché noi avevamo due diffidati Alma e Pira quindi per noi perdere uno dei due per domenica Lentini sarebbe stato diciamo una beffa sarebbe stato ripeto non nulla togliendo agli altri ragazzi della squadra però era importante il nostro obiettivo era quello di chiudere la partita al primo tempo L'Aionzo non è da sottovalutare è una bella squadra una squadra soprattutto che sta dimostrando di essere una delle migliori nel campionato l'Atletico Gela sicuramente non è in meno ce l'andiamo a giocare tranquillamente e vedremo di fare il nostro risultato quest'anno mi stanno dando ottime soddisfazioni e niente spero che comunque ritorneremo in eccellenza dove eravamo due o tre anni fa e tensione alle stelle ieri al termine della partita Palazzolo Gela terminata due a due con il gol Siracusano giunto proprio allo scadere su calcio di rigore ritenuto inesistente spulsi italiano il tecnico Brucculeri il portiere gelese Gerbò aveva parato il penalti ma sul ribattuta Sollano ha messo dentro i biancazzurri che avevano segnato con Alma e Mezzasalma hanno giocato gli ultimi 15 minuti in inferiorità numerica per l'espulsione dello stesso Alma i gelesi stavano portando a casa tre punti quando come dicevamo a tempo quasi scaduto è giunto il pari dei padroni di casa al triplice fischio finale si è scatenata una rissa nel sottopassaggio pare che un calciatore del Palazzolo abbia rifilato una manata al difensore Runza di spalle il parapiglia ha provocato molta tensione i 50 tifosi del Gela infatti hanno rischiato di venire a contatto con quelli del Palazzolo in tribuna è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine in classifica ad esse gelesi terzi accusano un ritardo di due punti dall'atletico vice capolista con 23 punti e di tre dalla Sicula Leonzio domenica prossima la squadra tanto cara il presidente Angelo Tuccio giocherà in casa contro il Santa Croce sempre ieri successo del Macchitella Gela a Pachino contro l'ultima della classe gli Aquilotti di Mirko Fausciana hanno vinto per 3 a 1 grazie ai gol segnati da Scudera Iudice e Fraglica i Biancorossi che sabato riceveranno al Presti la visita del Belvedere Città di Giardino adesso hanno 11 punti e si sono allontanati dalla zona play out ancora sport nel torneo di B1 maschile pallavolo fila come un diretto la Make Services Gela ieri altro successo il quarto di seguito battuto nel derby il Brolo vediamo la Make Services pallavolo Gela continua inarrestabile la soccorsa ieri altro successo un 3-0 che non ha lasciato scampo al Brolo i Gelesi hanno dominato dal primo al terzo set dimostrando di essere anche quest'anno una delle migliori formazioni del campionato la squadra di Fabrizio Marano comanda la classifica con 12 punti assieme al Castellana 12 punti frutto di 4 vittorie di seguito ieri sotto i colpi di Caci e compagni messinesi si sono arresi allo strapotere della squadra del presidente Rosario Faraci sono tre punti molto importanti per la classifica che ci consentono di rimanere al primo posto a pari con Civita dopo il primo set Brolo ha reagito sbagliando meno battute mettendo qualche attacco in più in campo con qualche muro piazzato in maniera diciamo quasi perfetta e quindi questo qui ha inciso molto sul gioco che è stato molto più combattuto e dopo abbiamo una sfida importantissima tra due settimane contro appunto la nostra pari punti e andremo in casa loro per cercare di fare il meglio che possiamo un successo meritato non era facile perché i derby sono sempre un derby lo sappiamo l'abbiamo affrontato nel migliore dei modi secondo me i ragazzi erano molto carichi e alla fine si è visto anche in campo ci sono squadre sicuramente accreditate per vincere questo campionato però noi ce la metteremo tutta pensiamo una settimana alla volta un avversario alla volta e vediamo dove possiamo arrivare non ci poniamo obiettivi obiettivi e limiti quindi ogni partita vale tre punti e poi vedremo magari strada facendo l'appetito viene mangiando il basket school Gela di Totò Bernardo non si ferma e conquista la quarta vittoria consecutiva violando il campo dell'invicta 93-100 Caltanissetta con un eloquente 95-49 che la dice lunga sull'andamento della gara e sulla differenza di valori espressi sul parche del Palacannizzaro gelesi quindi che si confermano al comando del girone occidentale di serie D di pallacanestro pronti a giocarsi tutte le carte a loro disposizione per tornare in C dalla porta principale continuano gli appuntamenti con la stagione concertistica gelese promossa dall'associazione Giovani Musicisti con il patrocinio della regione siciliana del Museo Archeologico regionale e del Comune di Gela sabato 22 novembre prossimo alle 19 nei locali del museo è prevista il concerto del duo Alessandro Locchiano alla tromba e Angelo Di Leonforte al pianoforte il direttore artistico e il maestro Crocifisso Ragona c'è l'informazione cinematografica al termine del nostro telegiornale e fuori nevica il film in programmazione al cineteat l'antidoto di Macchitella a Gela sono due gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 18 e 30 e 21 e 30 bene termina qui il nostro telegiornale grazie a tutti voi per la gentile attenzione per averci seguito fin qui vi ricordo che servizi e notizie sono disponibili alla nostra pagina facebook o sul nostro profilo facebook e vi ricordo inoltre che il nostro televideo è costantemente aggiornato grazie a tutti e buon inizio settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti